La cosa che è vergognosa è che la prima cosa che volevo provare, a cosa che ridurre gli stipendi della tassi dirigente, è vergognoso quando noi teniamo 100 di una maniera per comprasi nulla per Natale per essere il peggio, e loro continuano a prendere 20.000, 30.000, 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 30.000. Dobbiamo cominciare a eliminare lo spazio delle discriminazioni, ho visto, le discriminazioni che ci sono, tra i tempi di 470.000 anni di direzione, credo che la voce c'è. Allora in questo scenario i pensi innestano, caro ingegnero, caro ingegnero, i pensi innestano le fondazioni di questo. E questo è un accordamento positivi, e ci devo precisare, perché ingegnero qua, perché devo pubblicare qualche cosa, perché prima che io non ci vedo, questo è tutto. Allora, in questi accordamenti si innestano i miei lavori, questi giovani donne, e ci devo dire una cosa, sono giovani donne, quindi massagrate da questa testa, è quello che ho fatto questa premessa. Sono massagrate da questa testa, perché sono giovani donne, laureate con intelligenza, sapete, no? La cultura che mi stanno a trasmettere, la capacità e la passione e l'intelligenza con quale la trasmettono. Bene, sono donne che purtroppo sono disoccupate.